sanità salto di qualità per le prestazioni disabili mattarella inaugura il centro della lega del filo d'oro schianto in autostrada autista miracolato pesaro 20 24 un bando per i progetti dei comuni provinciali miralfiore fra miraviglia e voci dissonanti la buona serata e ben ritrovati amiche e amici di rossini tv questa è rossini news questo è il nostro telegiornale della sera il telegiornale del canale 80 che in questa edizione di giovedì 30 di marzo apriamo occupandoci di novità importanti sulla sanità del nostro territorio in particolare per quello che riguarda l'accesso alle prestazioni ospedaliere di soggetti con disabilità intellettive e neuromotore soprattutto nelle fasce dei minori nelle fasce infantili il progetto si chiama dama è stato presentato oggi all'ospedale santa croce di fano e va proprio in questa direzione in mezzo alle tante complessità sanitarie e ospedaliere da gestire in questo inizio di 2023 di transizione con la nascita della azienda sanitaria territoriale di pesaro e urbino germogliano però anche progetti pilota progetti davvero innovativi e confortanti per la comunità rientra in questo discorso il progetto dama che è stata presentato oggi all'ospedale santa croce di fano ma che riguarderà tutta la provincia di pesaro rubino e che sarà un riferimento per la regione marche insieme all'omologo di san benedetto del tronto la direzione dell'azienda sanitaria territoriale e i medici di riferimento del progetto dama hanno illustrato questo percorso che sarà rivolto all'accoglienza assistenza medico ospedaliera per le persone con grave disabilità intellettiva e neuromotoria con particolare interesse alla fascia dei minori alla fascia dei bambini un progetto che avrà un suo step importante a partire dal lunedì 3 aprile quando verrà attivato un call center dedicato questi sono momenti in cui riesci a intravedere le possibilità che ha un percorso integrato nel favorire nel come dire consentire ai pazienti di non doversi fare da soli il percorso cioè girare lemosinando appuntamenti al cup cercando medici cercando infermieri cercando risposte a delle problematiche che sono pesantissime sono ragazzi che o uomini anche perché a 26 anni parlare di ragazzi già è come dire eccessivo che hanno un mare di problemi che hanno problemi di gestione fortissime sono famiglie che sono a volte devastate da queste problematiche quindi dargli un aiuto e consentirgli comunque di usufruire di servizi integrati che in un accesso risolvono più di un problema secondo me è una cosa meravigliosa ed è veramente uno di quei giorni in cui ti commuovi perché veramente capisci che hai favorito qualcosa di utile questo progetto si rivolge a soggetti minori con grave disabilità intellettiva, neuromotoria e comunicativa relativamente a tutta la regione Marche per quanto riguarda i minori, per quanto riguarda i maggiorenni è relativa sempre alle persone con grave disabilità intellettiva, neuromotoria e comunicativa della provincia di Pesaro Urbino come accedere? Attraverso una telefonata che verrà effettuata o dal familiare della persona oppure dal caregiver ha un numero fisso che è un call center però un numero comunque fisso 0721 88 2727 in tre giorni della settimana lunedì, mercoledì, giovedì e in tale occasione risponderà un operatore sanitario l'operatore sanitario raccoglierà i dati sia anagrafici del paziente e le caratteristiche della domanda cioè la necessità che ha il paziente in quel momento oltre a raccogliere la motivazione della richiesta di visita raccoglierà ovviamente dall'altra parte, ripeto, c'è un operatore sanitario anche magari caratteristiche più specifiche relative al paziente si cercherà di provvedere, di andare incontro alle famiglie, ai pazienti nelle modalità di accesso del paziente alla visita è un progetto pilota soprattutto nella regione Marche lo stiamo sviluppando, è un progetto che in qualche altra regione è già stato sviluppato e ha dato risultati fantastici noi ci stiamo arrivando e ovviamente ogni progetto però ha la sua collocazione territoriale il progetto che funziona in una metropoli è diverso dal progetto che noi riusciamo a realizzare qua viene customizzato a seconda dei bisogni della popolazione e attenzione noi andiamo ad ascoltare tantissimo i bisogni perché sarebbe sbagliato fare un progetto copia e incolla non tenendo presente di che cosa serve davvero l'esperienza di anni di sistemi di qualità ci ha insegnato questo cerca di capire cosa serve davvero, ascolta le persone, ascolta le mamme, ascolta i professionisti e poi costruisce e noi cosa abbiamo fatto e oggi è l'apoteosi, siamo riusciti veramente a fare qualcosa, a renderlo concreto è veramente importante dare dei percorsi personalizzati a queste persone che hanno dei gravi problemi le loro famiglie quindi benissimo diretti verso questa direzione e siamo convinti che anche con il nuovo piano social sanitario si riuscirà piano piano a dare una svolta a questa sanità che ha bisogno sicuramente di essere migliorata e restando in tema di tutela dei disabili e dei soggetti fragili oggi nelle Marche è stato accolto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della cerimonia di inaugurazione del Centro Nazionale della Lega del Filodoro ad Osimo una testimonianza di attenzione e sensibilità del Capo dello Stato che è stato accolto dal Governatore Acquaroli e da Rossano Bartoli il Presidente della Lega del Filodoro che da 58 anni svolge attività a favore delle persone sordoceche e pluriminorate psicosensoriali e passiamo alla cronaca le immagini che vi mostriamo ora si riferiscono a un incidente avvenuto questa mattina in autostrada poco dopo le 9 fra i caselli di Cattolica e Pesaro vicino alla Galleria del Boncio i vigili del fuoco di Rimini e Cattolica sono intervenuti a seguito di un tamponamento fra un furgone e un tir lo schianto è stato impressionante ma non ci sono stati feriti gravi e all'arrivo dei soccorsi il conducente del furgone era già uscito e leso dall'abitacolo distrutto ancora cronaca un peserese di 59 anni è morto travolto da un treno sulla tratta ferroviaria fra Pesaro e Fano si chiamava Andrea Cipolloni ed era un odonto tecnico attorno alle 20 e 30 di ieri l'uomo avrebbe scavalcato la massicciata a fosso sei ore per poi gettarsi contro il convoglio proveniente da Ancona che si è fermato quasi un chilometro dopo un impatto che non ha lasciato scampo sul posto la polfer la polizia di Fano e i vigili del fuoco binari che ci collegano ora ad un argomento totalmente differente perché la regione Marche punta sul potenziamento della propria rete ferroviaria un argomento che l'assessore alle infrastrutture Francesco Baldelli ha presentato ieri in audizione alla Camera dei Deputati a Roma la regione Marche è stata audita dalla nonna commissione trasporti della Camera dei Deputati sul nuovo contratto di programma di rete ferroviaria italiana un contratto di programma che dovrà contenere necessariamente un potenziamento delle linee ferroviarie non solo delle Marche ma anche del centro Italia in nome della sostenibilità ricordiamo che le ferrovie sono un'infrastruttura più green dove soprattutto possiamo trasferire dalla gomma al trasporto ferroviario il carico merci che giungerà lungo le nostre coste dai porti di Taranto e di Gioia Tauro quali sono gli interventi che abbiamo richiesto? innanzitutto un potenziamento come alta capacità dell'Ancona-Roma con il finanziamento del terzo lotto che concluderebbe gli interventi previsti nella nostra regione per il potenziamento di quella linea ferroviaria e poi la necessità del potenziamento e della progettazione della tratta ferroviaria tra Fabiano e Foligno per superare la dorsale appenninica ma ancora una nuova linea di alta velocità nella tratta Bologna-Lecce per alleggerire il traffico lungo la costa adriatica e infine il completamento dell'anello ferroviario delle Marche che unisca le nostre cinque province ma soprattutto che scarichi traffico da Ascoli-Piceno fino ad arrivare a Durbino sulle due tratte principali sull'Adriatica e sulla Roma-Ancona È stato rimarcato più volte Pesaro, capitale della cultura 2024 non riguarda solo la città di Pesaro ma ben 50 comuni della provincia di Pesaro-Urbino ed è proprio ai loro progetti e alle loro iniziative che si rivolge un bando presentato oggi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro In questa fase di avvicinamento all'appuntamento di Pesaro 2024 è diventata di vitale importanza una collaborazione tra la stessa città e 50 comuni provinciali ed è esclusivamente rivolto a quest'ultimi il bando da 200.000 euro messo a disposizione da Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro al fine di sostenere progetti culturali e artistici nelle aree più marginali dallo stesso capoluogo uno stimolo in più per amministrazioni, soggetti pubblici e privati per uno sviluppo strategico socio-economico in vista di Pesaro, capitale italiana della cultura I 200.000 euro sono riservati esclusivamente alle collettività della provincia quindi con esclusione del capoluogo di Pesaro con il quale magari la Fondazione si riserva di valutare altri tipi di interventi e di iniziative questo perché appunto vediamo il punto più debole potesse essere rappresentato da queste comunità a volte molto frazionate e quindi il bando oltre a mettere a disposizione risorse economiche mette insieme delle regole che agevano la compartecipazione, la coprogettazione Il bando che è reperibile dal sito della Fondazione è aperto dal 31 marzo al 31 maggio e l'attività di selezione avverrà entro il 30 giugno 2023 I progetti che vorranno essere presentati dovranno rispondere ad almeno uno dei sei ambiti tematici inseriti nel dossier di Pesaro 2024 come la centralità dell'ambiente e delle officine culturali e creative o le nuove modalità di espressione della democrazia e il turismo sostenibile ma anche l'innovazione sociale a base culturale e la rigenerazione urbana Questo bando si può aderire facendo la domanda espressa alla Fondazione con un progetto che ricade in uno degli ambiti diciamo così tematici propri del progetto Pesaro 2024 rispettando quelle regole che abbiamo definito massimo 20 mila euro per progetto che rappresenti non più del 60% del costo complessivo per agevolare appunto l'aggregazione anche economica naturalmente verranno valutate come dicevo con preferenza quelle iniziative che ricadono su ambiti territoriali più ampi possibili e da parte di tutte quelle i soggetti che praticamente hanno già dimostrato nel corso dell'esperienza reciproca con la Fondazione di essere in grado di assolvere, di organizzare e di far realizzare quei progetti che mettono in campo Invitare i comuni e le realtà culturali della provincia a presentare proposte anche in forma aggregata, strategica, sinergica quindi insomma più che a farsi concorrenza a cooperare magari facendo progetti di vallata o di area montana o di territorio uniforme e che quindi possano essere ancora più forti più riproducibili, più leggibili e anche più di interesse per i cittadini innanzitutto ma anche per quelli che chiamiamo cittadini temporanei che saranno i visitatori che verranno a Pesaro nella provincia per la Capitale 24 Domenica 2 aprile Parco Miralfiore in festa con la seconda edizione di Miraviglia Mercanti in gioco un appuntamento dedicato soprattutto ai più piccoli vediamo di che si tratta Ritorno alla primavera, ritorno anche alle belle iniziative nel nostro meraviglioso Parco Miralfiore Ritorno a Miraviglia, un'iniziativa pensata per i bambini e le loro famiglie legate anche alla consapevolezza del riciclo i bambini porteranno i propri giochi che potranno scambiare o vendere al massimo per un costo di 5 euro durante la giornata del 2 aprile dalla mattina alle 10 fino alla sera alle 18 Devo dire dopo la felice esperienza di ottobre che era diciamo la puntata zero a grande richiesta come si dice abbiamo deciso di riproporla sia nel mese di aprile, maggio e giugno intanto è un lavoro di squadra che facciamo assieme agli assessori Frenguellucci e Camilla Murgia è un coinvolgimento delle attività economiche, delle scuole e soprattutto della gente noi vogliamo che ci sia sempre più gente al parco un polmone verde a un chilometro da Piazza del Popolo che va in tutti i modi valorizzato e portarci i bambini con le famiglie è una delle cose più belle che possiamo fare questa volta ci sarà con noi anche l'oratorio Don Bosco che organizzerà dei mercatini, un po' di musica giochi per i bambini e laboratori perché il fine dell'evento sarà quello di raccogliere dei fondi per le missioni nel mese di maggio invece sarà domenica 7 maggio la meraviglia e in quell'occasione avremo sia lega ambiente con il suo progetto delle api che il primo giorno della settimana che la città dedicarà la protezione civile quindi eventi dell'evento Sulle modalità di gestione del parco Miralfiore continua però ad esserci una diatriba fra le scelte dell'amministrazione comunale e diversi cittadini espressione di una voce dissonante da quella istituzionale voce che abbiamo raccolto in queste interviste Il parco più importante di Pesaro sta facendo crescere radici conservatrici grazie ad attivisti legati alla salvaguardia dell'ambiente più comprensione, sensibilità e consapevolezza questi i requisiti richiesti per una migliore gestione di questo importante patrimonio pubblico Sono più o meno tre anni che sta succedendo qualcosa che contrasta con la stessa nascita gli stessi scopi del parco una gestione abbastanza sconsiderata del patrimonio verde che questo parco ha ereditato dal passato ha progettato, ha curato, gestito, mantenuto fino a che è subentrata un'idea di parco tipo giardino condominiale cosa che questo parco non è mai stato questo parco è sempre stato una cosa differente facciamo fatica a farlo capire è sempre stato un parco unico nel suo genere con una quantità di aspetti veramente straordinari che altri parchi nelle miglia romagna e nelle marche non hanno un bosco è fruibile quando ci sono dei sentieri quel bosco che è stato tagliato che è qui dietro, il bosco dei Susini aveva sentieri aveva alberi che sono stati eliminati accuratamente con quattro interventi col trinciatutto e noi ci chiediamo qual è lo scopo se lo scopo è quello di rendere più visibile la situazione per rendere più facile l'azione delle forze di polizia noi ci domandiamo ma se i monumenti vengono imbrattati dai Reiters buttiamo giù i monumenti? per quanto riguarda l'area naturalistica in questi ultimi tempi si è presentato praticamente questa visitazione come se fosse una riscoperta anzi una riapertura come se fosse stata un'area preclusa diciamo alla città da decenni sembrerebbe in realtà la situazione è completamente diversa diciamo che ogni terza domenica del mese era possibile visitare l'Oasi accompagnata da una guida naturalistica io personalmente l'ho fatto almeno una decina di volte quindi qualsiasi cittadino pesarese lo poteva fare quello che noi come associazioni e cittadini che ruotano intorno alle associazioni stesse chiediamo che ci sia da parte dell'amministrazione una presa in carico seria consapevole e competente in cui questa ricerca di dialogo da parte delle associazioni non sia vissuta come un'intrusione o un'ingerenza o una rivendicazione di saper fare le cose meglio noi siamo portatrici e portatori di interessi di una collettività che chiede che un valore venga gestito in maniera competente e se possibile partecipata va in qualche maniera cambiata sostanzialmente la narrazione per la quale noi siamo quelli che siamo contro tutto e tutti non è così cioè abbiamo più volte documentato i motivi delle nostre istanze tant'è vero che per quanto riguarda ad esempio la questione dell'evento che si svolgerà domenica ci è stato detto che noi non vogliamo che la gente frequenti il parco non è assolutamente vero noi siamo a favore dell'evento che si svolgerà domenica però siamo anche convinti che la sicurezza all'interno del parco non si raggiunga con interventi spot di questo genere ma si possa raggiungere in qualche maniera portando la gente al parco quotidianamente quindi giusto per sfatare anche il fatto che noi siamo quelli del no e non siamo propositivi noi nel corso del tempo abbiamo formulato diverse proposte che sono state completamente ignorate è arrivata la fumata bianca sul futuro del mercato delle erbe costretto a traslocare il prossimo settembre dal complesso San Domenico che dal mese di ottobre lo ricordiamo sarà sottoposto ad un radicale lavoro di riqualificazione che durerà tre anni grazie a fondi PNRR fino al 2026 gli ambulanti del mercato si trasferiranno a Palazzo Gradari principalmente nel cortile sul retro di via Gavardini di proprietà del comune cui resteranno fino al 2026 per poi tornare nel complesso San Domenico a lavori conclusi questi i termini dell'accordo raggiunto fra comune, esercenti e rappresentanti sindacali Giuseppe Portanova titolare dell'omonimo ristorante in via Battisti è il primo presidente della neonata associazione ristoratori città di Urbino aderente a Confcommercio che è stata tenuta a battesimo alla data ex orto dell'abbondanza la nuova associazione si costituisce con l'obiettivo ambizioso di dar voce, capacità propositiva e rappresentanza alla ristorazione urbinate si consolida il rapporto tra passaggi festival e il liceo Nolfi Apolloni di Fano che diventa scuola partner dell'evento dedicato alla saggistica in programma dal 21 al 25 giugno si tratta di una iniziativa che arricchisce passaggi della presenza di decine di studenti che andranno a ricoprire attività fondamentali per il festival è prevista infatti la possibilità di stage per 33 studenti nell'organizzazione a supporto delle attività della rassegna linguaggi, visioni, orizzonti come ogni anno il liceo artistico Mengaroni celebra la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo sabato 1 aprile a partire dalle 10 gli studenti dialogheranno con le istituzioni sulla tematica proponendo anche un cortometraggio realizzato dall'indirizzo audiovisivi e multimedia ed ora parliamo di spettacoli venerdì 31 marzo e sabato 1 aprile alle 21.30 al Cinema Teatro Astra va in scena Amori, maledetti amori organizzato dall'associazione L'Anfora due serate interpretate con un cast d'eccezione un quartetto di musicisti composto da Clarissa Vicky Sara Jane Ghiotti Carlo Simonari e Simone Nobili che assieme alle voci narranti di Giuseppe Esposto e delle attrici Giulia Bellucci e Francesca Di Modugno proporranno storie e canzoni di donne della musica e dei loro sogni infranti donne come Dalida Edith Piaf John Byth Mia Martini Loredana Bertè Giunni Russo Tina Turner Lady Gaga ed Emy Winehouse E domani sarà invece in scena al Teatro Comunale di Cagli alle 21 il popolare volto televisivo di Andrea De Logo con il suo spettacolo 40 Estò manuale di sopravvivenza alla maleducazione sentimentale un folle spettacolo che racconta le donne alla soglia dei 40 anni per la regia di Enrico Zaccheo 3 giorni 30 bordi da attraversare in 360 chilometri a pedali sono questi i numeri della seconda edizione dell'Adriatic Green Trail pronta a partire a fine aprile il successo della prima edizione ha reso impossibile non riproporne una seconda l'Adriatic Green Trail manifestazione cicloturistica organizzata dall'associazione sportiva Fano Corre in collaborazione con Coff Commercio Marche Nord ritorna a far scoprire a tutti gli appassionati di bici le eccellenze paesaggistiche ed enogastronomiche del territorio tra sentieri sterrati e non trafficati il 23 24 e 25 aprile verranno raggiunti più di 30 borghi dislocati nella provincia coinvolgendo tre aree centrali come quelle di Pesaro Urbino e Fano 360 chilometri complessivi che potranno essere percorsi in gravel mountain bike e bike e bici da trekking ognuno al suo passo e con il suo mezzo dove si potrà scegliere tra un percorso lungo di 120 chilometri o uno più corto di 80 nei quali si verrà guidati da una mappa che si potrà visualizzare sul proprio dispositivo ogni giorno partenza e arrivo saranno da un casolare di campagna del 700 sito a Santa Maria dell'Arzella Magione Broccoli inizieremo il 23 aprile con un percorso che toccherà principalmente Pesaro con la bellissima panoramica fino ad arrivare ai borghi di Tavuglia di Gradare poi torneremo per la festa finale al Magione Broccoli il secondo giorno il 24 aprile sarà la volta di percorsi che arriveranno fino ad Urbino passando per la bellissima chiesa di Monte Santa Maria il ritorno sarà attraverso il Pietralata e il splendido passaggio attraverso le bellezze del Furlo l'ultimo giorno la festa finale toccherà Fano quindi ci sarà la bellissima passeggiata dell'Isipo per poi salire da Mondolfo fino ad arrivare ai borghi di Orciano Barchi e anche Mondavio non mancheranno eventi collaterali assegna anche dell'inclusività specialmente abbiamo il 25 aprile ci sarà una pedalata family con partenza e arrivo dall'arco d'agusto di Fano verso il Magione per un 10 chilometri pianeggianti specialmente adatta ai bambini e alle famiglie il 22 aprile invece sarà la volta di una notturna per la scoperta della Fano romana in cui proprio in questi giorni che abbiamo trovato la basilica di Vitruvio sarà uno spettacolo per i partecipanti scoprire di notte le bellezze romane della nostra città insomma impegno aumentato quest'anno per Confcommercio perché abbiamo sostenuto anche la realizzazione delle nuove divise del gruppo degli organizzatori che ovviamente le nuove divise che riportano bene in evidenza il logo di Confcommercio e dell'itinerario della bellezza e la guida dell'itinerario verrà consegnata a tutti i partecipanti a questa manifestazione quindi è un modo anche indiretto di promuovere il nostro territorio valorizzando i borghi i sentieri utilizzando uno strumento quello della bicicletta che oggi è in grande espansione il nostro obiettivo è di portare nel nostro territorio persone soprattutto che vengono da fuori e quindi che non conoscono la nostra zona che è ricca di bellissimi borghi e va valorizzata a ritmo di pedalata sicuramente abbiamo un sito di riferimento che è www.adreatigreentrail.it all'interno della quale ci sono tutti gli strumenti per poter aderire questa bella iniziativa si conclude qui il nostro spazio serale dedicato all'informazione di Rossini News ma prima di salutarci vi ricordiamo alcuni appuntamenti sulla nostra emittente a cominciare dalla nostra prima serata che parte subito dopo il Tg per chi ci segue nella prima edizione delle 19.40 alle 20.10 infatti vi porteremo a scoprire Pesaro Motore Imprese una iniziativa di CNA Pesaro Urbino per cogliere opportunità con il territorio un focus particolare sulla tradizione delle due ruote pesaresi e poi alle 21.20 il giovedì è sempre la serata dedicata al basket dedicata alla VL dedicata ad insieme a Canestro il nostro appuntamento fisso in diretta a partire dalle 21.20 nel nostro salotto di Marco Cadedu ospiti della puntata saranno l'ala della Carpegna Prosciutto Basket e lo speaker Thomas Nobili ci sarà poi spazio come sempre alle vostre possibilità di interazione in diretta al numero Whatsapp che vedete in grafica 370-366-7210 e Marco Cadedu sarà anche al timone della rassegna stampa del mattino buongiorno Rossini nell'edizione di domani venerdì 31 marzo come sempre l'appuntamento è alle 7.20 in diretta con Cadedu a sfogliarvi le prime notizie di giornata si conclude qui invece Rossini News vi ringrazio per averci seguito vi auguro una buona serata in compagnia dei nostri programmi